buongiorno e benvenuti in questo nuovo video di weekend i roulotte io sono stefano e oggi siamo a vigevano non siamo in campeggio ma siamo da de simone ho fatto fare i lavoretti alla roulotte poi li vedremo eccola qua la roulotte dopo partiamo e torniamo a casa ma adesso andiamo a vedere se c'è qualche roulotte usata prima di guardare qualche roulotte usata c'è anche il negozio fanno rivendita online comunque vi lascio il sito in descrizione anzi visto che ci sono devo comprare i sacchetti disgreganti li ho visti sono qua adesso me li prendo e andiamo a vedere qualche roulotte usata naturalmente anche tavolini accessori ai gazebi per cucinare la tenda i re ok partiamo con la prima roulotte usata questa è una e mer la feeling mi ha detto del 2010 f2 1100 kg è una 4 e 30 adesso devo vedere come fatta detto che si alza di netta giro gigantesca diventa letto matrimoniale è una dinette piccolina diventa letto singolo cucina bagnetto bagnetto cucino armadio stufa naturalmente in descrizione vi metto il sito inter così potete andare a vedere tutte le roulotte usate ok cambiamo modello e cambiamo dimensioni ob 540 f2 mi dico la regia mille cinque vediamo com'è com'era bella è grande questa ma accende le luci di netta giro la camera matrimoniale bella ma che finestre ciao ciao si fa vedere il bagnetto il bagnetto per armadio due ante bella è uscito il sole guardiamo un'altra roulotte usata caravella antares lux cos'è questa una 5 46 come dire bella c'è la doccia poi c'è la letto castello qua sul fianco di net e poi il suo lettino è però il letto quasi giri quasi attorno bello comodo stufa bella grande questa bella bella grande bella bella grande bene ringrazio di simone per i lavori fatti poi farò un video dedicato il buon massi che mi ha fatto personalmente i lavori per questo video è tutto vi ricordo che il weekend ero sia su facebook che su instagram se vi è piaciuto lasciate un bel like iscrivetevi al canale ciao